E' molto interessante, gli incontri sono molto formativi, sono veramente interessanti, mi piacciono molto, danno molte idee. E' veramente un accorso molto interessante, ora non conoscevo dei nomi ma non avevo molte informazioni, ora le sto apprendendo e sicuramente è stato un bel incontro e spero che funziona che ce ne saranno altri. E' una situazione positiva perché i corsi di formazione sono sempre fondamentali per gli insegnanti, per capire meglio. E poi io sono anche interessata ai corsi di lingua, all'estero, per portare gli studenti, lì mi potrei, questo sviluppo insomma in questo settore mi piacerebbe molto. Molto variegato, interessante e su più fronti, su più fronti, cioè si spazia dalla scuola, dal lavoro, vedo che ho inserito vari fronti su cui poter lavorare in vari contesti, non solo scolastico, ma ho avuto idee per la famiglia, per i figli. Penso che sia un buon, diciamo, un'azienda, anche in stanza, per la vista della formazione, che sono insegnanti e anche per gli altri studenti. Grazie mille!